Ic est fabula, Ortona ha una grande storia che va fatta conoscere. Questo l'obiettivo dell'associazione culturale Compagnia del Castello, che ha presentato gli eventi del 2024, anno importante, perché si festeggiano i 20 anni dell'associazione, tra le più longeve della città, come spiega il presidente Mauro Albanese. L'anno Compagnia del Castello è una delle associazioni più longeve, più antiche della città di Ortona, e tutto quello che ci lega è un pochettino l'amore per la nostra città, per Sant'Omaso e tutti gli eventi storici della nostra città. Quindi questa serata siamo un po' qui a presentarla, i nostri eventi più importanti. Per i 20 anni ci saranno eventi già noti, ma anche nuovi progetti che stanno suscitando già grande attenzione. Pasqualino D'Angelo è il vicepresidente dell'associazione. Sta riscuotendo un grande interesse da parte di tutti, sia amministratori che cittadini, perché oramai abbiamo raggiunto i 20 anni di attività e sono solamente la punta dell'iceberg e sono, diciamo, un punto di partenza. Questa nostra presentazione di questa sera è il punto di partenza per tutte e quante quelle che saranno le nostre attività future. Però già siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a presentare in questa nostra serata. Gli eventi sono tutti legati alla figura di Sant'Omaso Apostolo ed il direttore artistico è Mauro Vanni. L'associazione è sicuramente un fatto aggregativo per tutta la popolazione. Io ricordo che Ortona ha più di 50 contrade. E poi è un atto di fede che abbiamo nei confronti del nostro apostolo, della nostra chiesa e delle nostre istituzioni. Ortona ha cambiato le sue sorti dal 1258 quando le ossa dell'Apostolo Tommaso sono arrivate in città grazie a Pio Leone che le ha portato con tre galee. Quindi noi ripartiremo da questo evento il 6 di settembre 2024 per poi continuare il primo sabato di maggio con il corteo delle chiavi e per poi andare avanti il 15 di agosto con la scelta dei decurioni con gli incarichi della città e per finire con un fatto ludico durante la Notte Bianca noi riproporremo il palio dei giochi storici di questa città. In conferenza stampa era presente anche l'associazione Aracne. Hanno portato il saluto il sindaco della città Leo Castiglione ed il vice sindaco Cristiana Canosa.